La chitarra, le voci, la strada, il deserto, le luci, città. Rocco Anelli, Tosca di Giacomo Puccini e la Tosca di Vittorian Sardù. Al Guerrieri di Matera, con la Camerata delle Arti, erano in scena entrambe. Due Tosche che si fanno un'unica Tosca. Questa era la scommessa mia e della Camerata delle Arti che un po' ci siamo rilanciati a vicenda proprio nel momento in cui abbiamo pensato, ideato, scritto e portato in scena questo nuovo progetto. La Camerata delle Arti ormai eccelle nel formato pocket delle opere, un formato inventato proprio da Francesco Zingariello, dal direttore artistico della Camerata, che si pone l'obiettivo di diffondere l'opera lirica e di renderla quasi più accessibile. Ovviamente il formato pocket deve andare a colmare quei tagli musicali e narrativi con l'inserimento di una figura solitamente di un narratore. Nelle nostre Tosche che si fanno un'unica Tosca invece introduciamo dei personaggi originali del dramma di Vittorian Sardù, ovvero il dramma a cui Puccini, Illica e Giacosa, i suoi parolieri e librettisti, si ispirarono per creare appunto la Tosca che noi oggi tutti ricordiamo e amiamo e conosciamo. Come avete collegato Puccini e Sardù? Il trait d'union tra la Tosca di Sardù e la Tosca di Puccini sono tre personaggi, ovvero il sagrestano che finalmente ha un nome, ovvero padre Eusepio, abbiamo anche la cameriera di Floria Tosca Luciana ed il servitore del cavalier Cavaradossi, ovvero Gennarino. Sebbene nella nostra rappresentazione teatrale l'opera si apra proprio con una scena tratta integralmente dal dramma originale di Vittorian Sardù, il resto della messa in scena e delle parti recitate vedono appunto questi tre protagonisti muoversi in una storia creata appunto da me e scritta da me, con dei dialoghi del tutto originali che strizzano l'occhio al dramma originale di Sardù ma che vanno non solo a colmare appunto i tagli narrativi della Tosca leggermente modificata da Puccini ma anche insomma forniscono dei commenti e delle ulteriori informazioni utile non solo storiche ma anche emotive dell'evoluzione dei personaggi alla storia che tutti conosciamo. Abbiamo anche aggiunto la regina di Napoli in uno splendido monologo che illustra il ruolo dei potenti all'interno della vicenda della Tosca.